ecco qua ragazzi paccheri con pomodorini e melanzane e pesce spada quindi questo è un video che mi ha mandato un mio amico quindi paccheri pomodorini e melanzane quindi lo devo fare pure io ecco qua guardate ragazzi adesso c'è un piccolo video eccolo qua mentre saltella la pasta quindi la devo fare pure io ragazzi quindi la farò prima o poi vi auguro buon appetito anche se è presto però ragazzi la faccia è buona quindi amma fa ciao a tutti e alla prossima